e ciao a tutti ragazzi tutti sono il vostro seramatex90 qui oggi in questo brevissimo e fantastico video ragazzi sono qui per parlarvi proprio oggi dimostrarvi come avere accesso alla beta indivisa ragazzi sì perché la cosa non è stata pubblicizzata qui tanto però c'è una vera effettiva beta che inizierà per xbox one a dicembre di quest'anno mentre per le altre piattaforme uscirà nel inizio 2016 quindi penso che all'inizio di gennaio poi si potrà avere accesso a questa beta ragazzi e in questo video oggi ragazzi vi farò dimostrerò praticamente ragazzi come fare per avere la avere l'accesso alla beta indivisa ragazzi allora per avere l'accesso è semplicissimo un po come ribossi exige ragazzi allora per avere l'accesso basterà andare sul vostro motore di ricerca il browser ragazzi e scrivere semplicemente the division e vi troverà the division beta oppure ragazzi vi lascerò il link in descrizione modo da semplificarvi le cose basterà andare sul sito e questa ragazzi è la pagina che vi troverete come vedete a dicembre 2015 sarà su xbox one mentre inizio 2016 sarà per tutte le piattaforme quindi pc e ps4 ora come fare per avere l'accesso se basterà preordinare il gioco oppure se siete uno youtuber o vi state contattati vi daranno loro un colce oppure andate a fare la classica registrazione per la beta ragazzi allora in questa pagina ragazzi dovrete selezionare la vostra piattaforma quindi tra pc xbox one e ps4 ragazzi quindi selezionate la vostra piattaforma che più preferite dove volete insomma approvare questa beta e gli date l'ok vi si aprirà questa pagina dove dovrete inserire i vostri email e la vostra password dell'account uplay fatto questo ragazzi vi caricherà questa pagina dove vi chiederà di inserire il codice se come ho già detto vi è stato inviato direttamente dalla uvisa uplay oppure andate sulla richiesta del codice mentre qui ragazzi fa vedere praticamente che ho già richiesto tempo fa il codice sono via fuori la pagina che vi verrà vi verrà inviata un email direttamente con il codice se sarete selezionati ragazzi la cosa beta quindi ragazzi detto questo se spero che il video vi sia piaciuto e che vi sia stato utile se volete altre informazioni sui vari beta giochi video recensioni gameplay se non siete iscritti ragazzi vi invito ad iscrivervi al mio canale se il video vi è servito e vi è piaciuto lasciate un bellissimo mi piace ragazzi mi fa molto piacere mi fa sentire se insomma sto facendo bene quello che è il mio lavoro commentate e se non come già detto siamo iscritti ancora iscrivete ragazzi in noi ci vediamo al prossimo video stasera video di fallout 4 quindi preparatevi ragazzi e la ragazzi per l'alì Grazie a tutti.